Amministrare la cosa pubblica in nome e per conto dei cittadini, fare il bene comune, avere cura, servire l'uomo, concetti nobili in un'etica che si contrappone a quella della cura dei propri interessi, del proprio orticello, della prevaricazione, del sentirsi al di sopra degli altri in nome di una disuguaglianza che vede soccommere le minoranze, ovvero la gestione amministrativa degli ultimi dieci anni nella città di Pagani che ha portato al decadimento sotto gli occhi di tutti. Mera preoccupazione ed occupazione di poltrone, di ruoli di gestione del potere, null'altro. Nessun progetto, nessuna idea di sviluppo, nessuna opportunità per i cittadini abbandonati al proprio destino. Nessuna capacità di far quadrare i conti di un bilancio che ha portato inevitabilmente al dissesto le casse comunali, al default, in poche parole, al fallimento. Una sconfitta per la città, ma soprattutto una sconfitta per chi l'ha governata per anni. Ora è il momento di cambiare, di voltare pagina sul serio al malgoverno che in dieci anni ha distrutto anche quanto di buono era stato ereditato. Cattiveri, egoismi, invidie, gelosie, odio hanno caratterizzato il clima politico in inizio decennio nella città di Sant'Alfonso ed hanno contribuito ad annientare le coscienze ed a toccare il fondo. Pagani va presa per mano con amore, passione, propensione al bene comune, ma anche con autorevolezza, senso del rigore, serietà e soprattutto capacità politiche, amministrative e gestionali con ampie vedute che possano trasformare le potenzialità in risorse, in opportunità. Resettare e ricominciare da capo con uomini, donne, volti, idee, progetti, prospettive completamente nuovi e questo sarà possibile se tutta la vecchia politica, da destra a sinistra, sarà disposta a farsi da parte per fare spazio ad una nuova era. L'unico modo per chi ha capacità, voglia, passione, competenza, cultura, lungimiranza, buonsenso di mettersi in gioco e tentare di risollevare dal baratro una città che per storia, tradizioni, patrimonio, cultura non è seconda a nessuno. Ma la gestione del potere, che a livello locale si è esplica anche attraverso la gestione della cosa pubblica, continua a far gola a tanti ed è difficile immaginare passi indietro in nome di valori più nobili. Da mesi, nonostante i fallimenti e le sconfitte dei più, si trama per tessere le tele che riportino al Palazzo chi, in un modo o in un altro, è responsabile della morte civile della città. Ma vediamo chi potrebbe esserci ai nastri di partenza di una tornata elettorale alle porte con il voto che con molta probabilità ci sarà a settembre. A tentare la scalata, lo scranno più alto di Palazzo San Carlo, potrebbero essere gli sconfitti della campagna elettorale di un anno fa, Salvatore Bottone, Santino Desiderio e Lello De Prisco, con i primi due pronti a contendersi una candidatura per il centrosinistra. L'ex primo cittadino, accasatosi con i socialisti del segretario Maraio, disposto a rinunciare alla candidatura per le regionali, e Desiderio pronto, con due liste civiche di sostegno, ma che potrebbe rappresentare la sintesi dell'alleanza di governo nazionale che vede insieme PD e 5 Stelle. Bisognerà però vedere come la prenderebbe la locale sezione del partito di Zingaretti, con una corrente interna pronta a mettere sul tavolo una carta sorpresa, quella del vice sindaco uscente Anna Rosa Sessa, in rotta di collisione con il centrodestra, e dove già la Lega ha chiesto a tutti un passo indietro per fare spazio al nuovo. Difficile ipotizzare a Pagani una ricomposizione del tavolo di centrodestra dopo gli stracci volati negli ultimi mesi, nonostante le indicazioni nazionali e provinciali spingano per la linea dell'alleanza. Ognuno potrebbe andare per la sua strada con una parte di Forza Italia propensa all'intesa con Fratelli d'Italia, se il candidato sarà il medico Nicola Campitiello. Con la Lega che rivendica stavolta una sua candidatura e l'altra parte di Forza Italia che cerca ancora una sua dimensione ed una sua forza elettorale. Ogni decisione sarà in ogni caso subordinata a scelte che verranno calate dall'alto, frutto di accordi ed alleanze su scala regionale dove si gioca la partita più grande del governo di Palazzo Santa Lucia ed a livello locale molti potrebbero solo dover proferire obbedisco.